Speriamo di vero, mamma mia, se non ne posso più, devo stare in comune, no ma io sto facendo pubblicità, mi raccomando, signora mi raccomando, parigi come sindaco, altra sindaco comunale e se vota, io sono candidata qua in Porta Italia, io è il sindaco, io sono candidata se vota qua, faccio una pubblicità, se vota qua, io mi chiamo Michelea, io sono in Piazza Repubblica, forse c'è la pubblicità, comunque lì si c'è il mini, si si, giriamo tutti qui, posso lasciarlo, è meglio il programma?